Un bilancio di questi dieci anni? Siamo abbastanza contenti, siamo partiti che avevamo in negozio 10 DVD, 3 videocassette, 4 gadget, adesso insomma un negozio abbastanza pieno. Per quanto riguarda invece il discorso internet, anche lì insomma siamo contenti perché siamo partiti chiaramente da zero, adesso abbiamo la nostra clientela, sfruttiamo il canale Facebook, sfruttiamo il canale forum, chiaramente il sito, quindi direi che tutto sommato c'è da essere contenti, siamo decente e moderatamente contenti, si può sempre migliorare ma insomma siamo contenti. Lo stato attuale delle videoteche, chiaramente noi vediamo quello che è il nostro lavoro, non sappiamo la realtà degli altri, quello che posso dire è che il settore noleggio probabilmente non sta vivendo il suo momento migliore, anche perché i prezzi dei DVD sono calati, quindi insomma alla fine vendita e noleggio il prezzo va quasi a coincidere. Per quanto riguarda la vendita, lo attiene abbastanza bene, anche perché fortunatamente chi ama il film, chi ama il cinema, chi ama il DVD, chi ama il collezionismo vuole avere l'oggetto anche per rivederselo tante e tante volte. Chiaramente ci sono delle cose che non aiutano il mercato, però tutto sommato dai, direi che per il momento toccando ferro regge abbastanza bene. Nel nostro caso particolare appunto facendo un discorso anche di importazione, cercando mercati nuovi, non facendo solo quello che è diciamo il DVD semplice da trovare da tutte le parti, direi che insomma ce la caviamo. Grazie.